È una cosa, te la devi sentire, ti devi venire dal cuore, ti devi venire e soprattutto di essere preparato. Se stasera devo ritornare e stare male, a me non mi va perché poi ho la bambina e con lei devo stare bene. Mancava dal 2018 Giampaolo Matrone, uno dei superstiti della tragedia che nell'inferno dell'hotel ha perso la moglie Valentina. Il pasticcere di Monte Rotondo ha voluto seguire in prima persona i lavori dei periti. Era parecchio che non tornavo e io l'ho sempre detto sarei tornato quando me lo sentivo e oggi era il momento soprattutto perché è una giornata molto importante per i periti. So che vuol dire, so com'è andata quel giorno, so tante cose, forse qualcuna pure in più di loro che stanno qua e sono un po' spaisati. Il dispiacere è stato tanto soprattutto che non ci hanno dato il permesso a noi familiari di entrare il giudice. E me lo ricorderò questo. E in più, quando vieni qua comunque mi tremano le gambe, mi tremano gli occhi. E rivedere la montagna qua, la valanga, rivedere l'albergo, l'ex albergo perché non c'è più, le macerie, mi fa molto brutto. Andrà accertata sicuramente la correlazione tra terremoto e valanga, ma per matrone non vanno spenti i riflettori sul perché non siano stati attivati immediatamente i soccorsi e sugli allarmi inascoltati delle ore precedenti. Di veramente di accertare la verità perché noi alla fine lo sappiamo, non è stato il terremoto e non è stata nemmeno la neve. È stata la mano soprattutto dell'uomo che ha creato tutto questo casino che è successo. Io l'ho ripetuto sempre dal primo giorno che a noi ci hanno scortato, ma ci hanno scortato nella morte, non ci hanno scortato per andare a fare un riposino. E la cosa brutta è che tutte le persone che sono indagate e che sappiamo, perché poi non è che l'indagato è il colpevole, però che sappiamo che sono colpevoli, alla fine poi uscirà fuori. Stanno tutti quanti tranquilli, beati, al loro posto e qualcuno sta ancora a gestire l'emergenza neve. Io lo ripeto da tanti anni.